Sono sicuro che non ho risposto completamente alla tua domanda, da uno spunto così di riflessione. Sempre per cercare di entrare in positivo dai pensatori che discutiamo. Salve. Ci sono un paio di punti. Uno è una cosa che non mi è tanto chiara, l'altro è un punto più critico. Inizio col punto critico. Ha risuonato molto con me il fatto che noi usiamo il verbo essere quotidianamente e impropriamente, per esempio perché se noi diciamo che il bicchiere è, ci stiamo esprimendo su qualcosa che il bicchiere non appartiene. Per esempio se io dico che è una bella giornata, la giornata è una distorsione linguistica mia, perché la giornata antologicamente è, ma sicuramente non è bella, perché è bella è un aggettivo mio, distorto dai miei filtri di essere umano. Però io mi sono trovato negli appunti cose come il mondo è uno strumento. Le cose sono strumenti dell'uomo. L'essere umano è un essere progettuale che progetta. Quindi il punto che è un po' strano, che mi è un po' strano, è che se c'è la critica a questa che, almeno come l'ho studiata io in linguistica, dalla scuola americana dei linguisti, si chiama equivalenza complessa, cioè io equivalgo a due cose che antologicamente non posso dire cosa sono, io mi aspetterei da un filosofo che eliminerebbe questa, potrebbe dire solo del mondo ciò che non è, ma non ciò che è. E quindi non dico di parlare con un linguaggio povero del verbo essere, però perlomeno di non fare equivalere altri criteri invece di quelli che attacca. Ok. Lo dico? No, no, ho capito. La seconda cosa, che questo qua invece non mi è chiaro, cioè nel senso, nel secondo periodo di Heidegger, quando si occupa dell'essere, e c'è la critica dell'essere come, l'essere è stato considerato dai filosofi come un ente, mentre in realtà l'essere è indivenire. Non ho capito come fa un essere ad essere nel tempo, cioè qualcosa che io mi immagino è soggetto al tempo, è soggetto a trasformazioni, quindi a mutevolezza, e se per essere stabiliamo come significato di contesto un qualcosa che non cambia, non riesco a capire come si concilia un essere nel tempo. Sì, a me lo parto da questa seconda.